E appena se ne andrà qualcuno se ne fa rientro Noi stiamo andando a 50 km orari quindi ci potete raggiungere una volta che siete online No ma che loro comunque anche offline come dire non è camminare Ma io mi sono fermato A quanto? A 788 km Ah quindi stanno più avanti stanno ok Accelerazione Eh guarda che io con questo potrei farti mangiare la polvere con questo camion Eh guarda Vuoi vedere come ti supero? Però non lo faccio perché Guarda non ti supero perché stanno guardando anche gli amici qua altrimenti dicono che io faccio lo sbruffone Io qua avrò 580 60 cavalli non so Però ragazzi Però ragazzi fossi una cosa effettivamente io ho dimmiato ma sì perché perché se devi fare se devi viaggiare con 20 tonnellate con 25 con 750 non ti diverti parti con la seconda veloce vai Grazie a tutti.